Doveva essere un consiglio tecnico con la votazione della procedura di incompatibilità nei confronti del consigliere Maria Adilascio, ma come era legito attendersi si è trasformato in un consiglio politico. Da una parte il gruppo Perlago Negro, che ha difeso la spada tratta alla posizione della Adilascio, dall'altra la maggioranza che sventolava il conflitto di interessi della consigliera in qualità di socio di una ditta che ha fatto causa al Comune. Per la minoranza si è trattato di un vero e proprio attentato alla democrazia. Un'ultima cena l'ha definita il consigliere Santarserio per mutilare l'opposizione del suo capogruppo. Un atto dovuto hanno replicato dalla maggioranza perché l'Adilascio, in qualità di amministratore unico prima e di socio poi della Mavi dell'SRL, ha intentato causa al Comune chiedendo un risarcimento danni di 679 mila euro. La vicenda è legata al distributore di Via Roma e a quello no logo dell'Adilascio. Il primo avrebbe operato per un periodo di 36 mesi senza collaudo, causando un mancato guadagno alla stazione di distribuzione di carburanti del consigliere di opposizione. Danno quantificato dagli incassi realizzati durante il periodo di chiusura per ferie della stazione di benzina che insiste nel centro di Lago Negro. Proprio l'ubicazione è stato un altro punto del dibattito. Secondo l'opposizione, il luogo in cui ricade il distributore Tamoil non è tra quelli individuati con atti del 2006. In ogni caso, essendo in pieno centro, risulterebbe contro normative nazionali e regionali. Il consigliere Adilascio aveva preliminarmente richiesto che fosse anticipato nell'ordine del giorno il punto relativo alla modifica del regolamento per le riprese audio-video del Consiglio Comunale. Evidentemente dalle opposizioni volevano registrare l'andamento della discussione, proposta però bocciata. Ora si dovrebbe tornare in aula tra dieci giorni, quando la Adilascio solleverà le eccezioni. Ma dal clima che si è respirato ieri sera in Consiglio Comunale, sembra che la vicenda sia destinata a trascinarsi ancora per molto tempo.